Sperso fasico Spero che il riparatore sia bravo come dicono i morti Già Lo spero anche Il ponte sembra fuori salito Sono le conseguenze di un attacco I centri di produzione devono sempre difendersi dai banditi O dai pirati Scusate Qualcuno sa dove possiamo trovare il riparatore Sembrano fin troppo cauti Dov'è scenderti dal tratto maggiore Ha ha Stupido Chiudi Hai trovato un stia Vota della resistenza Contengono informazioni su pianeti diversi Non ci sono domi La gola di Molonoth Se io fossi un riparatore Dov'è che sei? A riparare cose? Dottor ne ingyentro Dottor ne ingyentro Dottor ne ingyentro Dottor ne ingyentro A lui? Benvenuti nel gioiello della Galassia Fateh buone ferie Sapevate che Molonoth vuol dire paradiso impattomese? Il riparatore si trova qui? Beh assolutamente si Bel tipo affascinante Edes single Se uno di vos interessa Si dice che possa riparare il quarzo fasico Quarzo fasico Quarzo fasico Quarzo basico Tutti i quarci Lui ripara tutto Ma Ehm Avevamo un problemino con i pirati e gli abbiamo chiesto aiuto perchè beh lui è bello grosso Ma dopo un inizio di poco scoppiatante si è rotto Forse possiamo aggiustarlo noi Sono certo che voi due lo rimettereste in piedi in un malo secondo Ma i pirati hanno distrutto l'unica via d'accesso per cui vi servirà una salta fionda Oh E gli ho vista una nelle vasche di fusione più avanti Che fortuna Noi copriamo questa salta fionda Quindi Una volta finito Vuoi accompagnare Ratchet nella dimensione dell'ombax? Credo di si ma Ratchet non è sicuro Forse ha paura di... Aspetta paura? Paura di cosa? Ehm Complicato Ah Senti Se lui non ci vuole andare ci vengo io Oh figlio ho vista una delle vasche di fusione più avanti Che fortuna Quindi Una volta finito vuoi accompagnare Ratchet nella dimensione dell'ombax? Credo di si ma Ratchet non è sicuro Forse ha paura di... Aspetta paura Paura di cosa? Ehm Complicato Ma Senti Se lui non ci vuole andare ci vengo io Scroccona Ehm O Guarda di chiedere di buon sgianto! Ho bisogno di... Ci sono vasche di fusione oltre il canyon. Ma non vedo come raggiungerle. Allora dovremo improvvisare. Ok, prendiamo la monorotaria. Però oltre il baratron. Ma è enorme! Già, e neanch'io sono attratto dal nome, ma dobbiamo trovarne una alle vasche di fusione. Sarpami in arrivo! Meglio saltare! Ne arriva un altro! Strano trovare una falsa pionda in una vasca di fusione. Forse ha qualcosa a che vedere con i pretensionamenti degli ultimi tempi? Per fratture multiple, magari? Facile! Una fettitura! Ma come vale, eh? Davvero notevole. Fuori dai piedi! Non è stato bello. Occhio al salto! Oh mamma! Questo sistema di rotelle non sembra molto sicuro. Tieni duro! Porta direttamente alle vasche... Io ho paura di... No, era perfetto. Occhio al salto! Oh mamma! Questo sistema di rotelle non sembra molto sicuro. Tieni duro! Porta direttamente al... Io ho paura di finire... Occhio al salto! Oh mamma! Questo sistema di rotelle non sembra molto sicuro. Tieni duro! Porta direttamente alle vasche di fusione! Io ho paura di finire dentro una vasca di fusione. Gioco? No! Ragazzi! Et voilà! Pirati! Oh no! Avanzia! Oh io ho io! Oh andiamo all'arribazio! Arraffiamo di tutto, facciamo Trambus, il riparatore di Stoccovo! Ehi ragazzi! Questo è utile! Di fatto è sicuro che non è utile! Il destino ci ha fatto incontrare di nuovo! Ma petite rivette! Perché il destino ama prenderti a calci nel sedere? Allora... Compagni e fedi bustieri all'attacco! Oh mamma! I pirati fanno razzia di rottare! Non devono prendere la salta a fiondare! Allora... Agire nell'altezza! Buona idea! Divate gli... Scudici urma! Fugli! Tentiamo un approccio più creativo! Fugli! Ah! 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 Combatti splendidamente, Rivet! Ma avresti dovuto vedere la potenza del riparat... L'hai ucciso con la tua logorea? Vorrei prendermi il merito! No! La ca... Decidimente è un mistero anche per me! Tutta mia... Io vedrò la sua assenza! Ah! 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 ok mancate solo voi vedete che lo può la lomba è scoperto di mozzi cosa sperano di trovare i pesori sepolti e un pianeta di rifiuti è l'ideale la lomba spende cara la pelle ostia Dai eh, ostia E' morto il passo di sentito! Ancora? Ma quanti sono i pirati di piedi? Forse... Non, 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 non... Beh, bisogna andare now... No, 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 no No, 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 no 1 blu 2 blu 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 11 12 12 12 14 14 15 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 16 16 16 Niente quali è assidio, la tua pulizione è soltanto. Non sono io a rubare! Riparatore, ho un'impresa forte! Mi risparmio la fatica! Stiamo schiancando! Non mi sfocerai! Non mi sfocerai! Oh merda Ben fatto lattina spero di non vedere Grazie a tutti